Giorgio Cisini, da tempo si parla di utilizzare lo sport per far conoscere il territorio, con Nord Meccanica nasce un progetto e ce ne vuoi parlare? Abbiamo molte idee con Nord Meccanica, sia di portare le ragazze nel tessuto sociale piacentino e poi il mio impegno di seguire soprattutto le trasferte nella Champions League per promuovere il territorio piacentino anche nelle varie sfide che questa squadra affronterà durante il percorso di Champions, quindi in Europa. La mia disponibilità a promuovere il territorio, a sostenere la squadra, l'avevo manifestata e negli accordi anche con il Presidente Antonio Cercello ne avevamo parlato in modo molto sereno, quindi accompagnerò la squadra, accompagnerò il team e cercheremo durante le trasferte di incontrare amministratori e persone che vogliono ascoltarci per promuovere la nostra città, per valorizzarla oltre dal punto di vista sportivo, nel cui Nord Meccanica si impegna anche dal punto di vista territoriale, quindi seguirò le trasferte, sarò presente e cerchiamo di portare piacenti in Europa.